Una gara molto appassionante è quella che abbiamo visto quest'oggi tra gli Under 23 ed è un percorso molto molto interessante e molto impegnativo quello che caratterizzerà questa due giorni di gara per i mondiali di ciclocross che si svolgono quest'anno ad Ostenda in Belgio, nel nord delle Fiandre appunto sul mare. Percorso appunto molto selettivo, composto da tre settori fondamentali. Il primo è quello del ponte, un ponte artificiale alto una decina di metri, lungo 150 metri, una pendenza che arriva anche al 21%, quindi veramente tostissimo. Circa 20 secondi di salita, da ripetere due volte, uno prima del settore di sabbia e uno dopo, quindi ancora più selettivo, in quanto la partenza è praticamente da fermo. La seconda parte è appunto quella della sabbia, la parte più importante, la parte fondamentale di questo circuito, si arriva proprio sulla spiaggia di Ostenda ed è un settore molto interessante perché hanno lasciato praticamente libertà completa. Hanno detto voi andate sulla spiaggia e potete fare qualunque traiettoria voi vogliate, quindi c'è chi sceglie di stare più interno, c'è chi sceglie di stare più esterno, chi sceglie di andare più in lungo, chi sceglie di magari rientrare un po' prima, quindi molto interessante anche dal punto di vista tattico. Poi la terza parte è quella del ipodromo con leggermente mossa e soprattutto diverse curve su un fango tra l'altro anche piuttosto ghiacciato, quindi molto scivoloso. Percorso che ha visto appunto molte scivolate nel tratto di fango e molte cadute sulla sabbia, molti capitomboli, ovviamente nessuno si è fatto troppo male perché siamo nel ciclo cross e poi sulla sabbia è molto morbido. Comunque diverse scivolate, soprattutto dal grande favorito Ryan Kamp. Ma partiamo subito con la cronaca della gara. Nei primi giri si forma un gruppo completamente neerlandese, o meglio un gruppo Beneluz diciamo, con i belgi stranamente in superiorità numerica. Mi aspettavo gli olandesi essere più forti come squadra rispetto ai belgi, invece i belgi sono riusciti a fare appunto la differenza come squadra. Nel terzo giro sulla sabbia fa però la differenza l'olandese Pim Ronner della Powell-Sausen-Bingol. L'olandese classe 2001 riesce sulla sabbia a fare veramente grande differenza. Provano a seguirlo i belgi Kielik e Van den Bosch, che perdono circa una decina di secondi, ad inseguire con anche Tim Van Dijk della Jambovisma, l'altro olandese, che è lì al gancio assieme ai due belgi. Gran recupero di Kamp dopo una bruttissima partenza con un paio di scivolate e di cadute, anche piuttosto brutte, riesce a rientrare sui belgi e prova anche addirittura ad attaccarli. Nel tratto di sabbia successivo, nel giro 4, rientra assieme a Verstringhe sui due belgi, si stacca invece da davanti Van den Bosch, che era nettamente in difficoltà, lo si vedeva che non riusciva nemmeno a dare un cambio, perché molto molto affannato. Si forma dunque un terzetto inseguitore di Pim Ronner, comprendente i due belgi, quindi Verstringhe e Kielik, e anche il l'olandese Ryan Kamp, che ancora una volta cade, riesce di nuovo a rientrare nel quinto giro, ma a questo punto Pim Ronner riesce a prendere il largo, riesce a prendere una ventina di secondi di vantaggio appunto sul terzetto belga-olandese. Nell'ultimo giro attacchi e contrattacchi, soprattutto tra Kielik e Kamp per la seconda posizione, l'attacco decisivo arriva nell'ipodromo con Ryan Kamp che riesce a fare la differenza e riesce addirittura a guadagnare parecchio sul connazionale e compagno di squadra Pim Ronner, che in quel momento stava comandando la gara. Tra l'altro scivolata di Kielik, che dà appunto addio a ogni chance di seconda posizione, dunque doppietta olandese, doppietta Powell con Pim Ronner classe 2001, che vince davanti al classe 2000 Ryan Kamp, il grande favorito di giornata. La terza posizione per Timo Kielik a 14 secondi, anche lui classe 2000, poi Emil Verstring, il più giovane di questa top 10, classe 2002, quindi primo anno, sorprendente il belga, soprattutto sulla sabbia è andato veramente fortissimo. Chiude quarta a 19 secondi, poi Thun van den Bosch a 31 secondi, Hendricks a 32, Ferdinand a 55, Van de Putt un po' deludente a 1,01, Ben Turner, primo dei non belgi olandesi, l'inglese, comunque Inghilterra molto deludente quest'oggi, soprattutto Mason, Turner chiude nono, Tim van Dijk decimo, italiano, il primo italiano chiude undicesimo ed è il secondo dei non belgi olandesi, ed è Fontana, una buona prova per lui, che chiude undicesimo a 1 minuto e 50 secondi. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, vi diteci un commento, vi piace iscrivervi, seguiteci anche sulla nostra pagina e noi ci vediamo a un prossimo video con la gara femminina.